Attualmente la generazione e la creazione di contenuti creativi e la gestione dei canali digitali e delle campagne marketing è un lavoro estremamente time consuming, che porta i freelance, i professionisti marketing e la comunicazione a delimitare il numero dei clienti e anche alle società, specialmente le piccole realtà, a dover dedicare una risorsa a tempo pieno solo per queste attività. Con AdMind l'utente riesce a generare in pochi clic contenuti creativi di alta qualità. Ciao a tutti, sono Marcella Andragi, sono CEO e co-founder di AdMind. Che cos'è AdMind? AdMind è una piattaforma che utilizza le tecnologie di ultima generazione di OpenAI. Utilizziamo l'intelligenza artificiale GPT 3.5. Abbiamo allenato questo modello per farlo diventare un vero assistente marketing, un assistente che può generarti contenuti di altissima qualità in pochi secondi. Praticamente lasciati GPT migliorata in ottica comunicazione e marketing. Quando nasce AdMind? AdMind nasce a luglio 2022. Insieme al co-founder Giacomo Andreoli, era già da due anni che eravamo in contatto con l'OpenAI e studiando il loro modello di intelligenza artificiale. Dopodiché, quando hanno lanciato la versione beta dei modelli GPT 3 e da lì, il generatore di immagini, lì è condenato il progetto in ottica marketing, in ottica verticale su marketing. Abbiamo lanciato la nostra chat GPT con sei mesi in anticipo. AdMind nasce a dicembre 2022 come società. A febbraio abbiamo fatto un primo round di crowdfunding, siamo ancora in crowdfunding, abbiamo già raggiunto il minimo, che erano 100.000 euro. Che servizi offrite? AdMind offre la possibilità di generare immagini, sia per stampa che uso digitale, a partire da un input semplice, con un'unica frase, l'utente può generare un'immagine con lo stile che desidera. AdMind promette anche la generazione di contenuti di diversi tipi, tra cui articoli di lunghezze varie, post, annunci per tutti i social media, annunci per Google Ads, annunci per tutte le piattaforme attualmente sul mercato, per marketing digitale. AdMind permette anche l'integrazione dei canali digitali, anche dei diversi brand, e permette anche la generazione di piani editoriali automatizzati. Inoltre permette anche la possibilità di fare analisi dei risultati in ottica SEO, in ottica ROI, per cui l'utente più usa la piattaforma, meglio diventa. Quali sono i prossimi obiettivi? Adesso siamo ancora in crowdfunding e il nostro obiettivo è raggiungere il massimo di 450.000 euro. I prossimi obiettivi sono quelli di continuare a sviluppare la nostra piattaforma. Abbiamo adesso la versione 1 online, andiamo fino alla versione 4, in cui include anche l'integrazione di una piattaforma numero 1 al mondo di progettazione grafica. Abbiamo in sviluppo anche l'applicazione mobile, per poter gestire i piani editoriali, le campagne marketing, e vogliamo principalmente utilizzare queste risorse per il marketing, per diventare la piattaforma numero 1 al mondo che utilizza l'intelligenza artificiale per il marketing.